Negli appuntamenti tradizionali del nostro Vescovo c'è anche l'incontro con gli amministratori, i politici, chi insomma è deputato a governare ed amministrare la nostra città e tutti i paesi della nostra diocesi. Quale sarà il messaggio per loro di questa mattina? Fondamentalmente lo esprimo in tre parole che sono le tre parole che provengono dalla settimana sociale di Reggio Calabria. La prima parola è unità, la seconda speranza e la terza responsabilità. Credo che se vogliamo attraversare questa crisi che è molto difficile e che rende anche ancora più difficile l'amministrazione delle nostre città e dei nostri paesi, dobbiamo davvero percorrere queste tre vie. Quella dell'unità, sapere che ci salviamo solo insieme, come spesso e volentieri il nostro Presidente della Repubblica mette in risalto, ma abbiamo anche bisogno della forza e della speranza proprio per affrontare le difficoltà. E poi un più grande senso di responsabilità da parte di tutti, ma naturalmente anche da parte degli amministratori, come da parte della Chiesa, come da parte degli educatori. Ecco, il mio augurio di Natale rivolto appunto ai politici e agli amministratori va in questa direzione, ma credo che sia un augurio che vale per tutti, ringraziandoli anche per il servizio importante che hanno svolto e che continuano a svolgere con dedizione e con impegno. Tra l'altro anche il Pontefice proprio in queste giorni si è rivolto ancora a chi in generale lavora in politica, perché forse questo è un momento dove serve anche un segnale particolare per le persone. È vero che poi chi lavora nelle amministrazioni locali ha un rapporto diverso con le persone di quanto non siano magari politici a livello nazionale, però insomma c'è stato anche un bel intervento del Papa, direi. Esatto, l'ha messo in collegamento e mi pare che sia davvero molto bello con i giovani, invitando appunto i politici rispetto appunto ai giovani di offrire una testimonianza limpida e trasparente del servizio della politica per il bene di tutti, ma appunto ha invitato i politici ad essere limpidi e trasparenti rispetto appunto alle generazioni più giovani perché in qualche modo la politica decide anche il nostro futuro e quindi il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, quindi mi pare che sia un invito e anche un ammonimento, quello del Papa per tutti noi. Ultimo Natale da sindaco, giusto? Giusto, giusto, giusto. Volevo sapere anche qualche cosa di questi anni, i dieci, noi tuoi, come è cambiato, è cresciuto il rapporto direi anche con la diocese che mi sembra che sia sempre migliorato, sempre cresciuto e diventato più sinergico, no? Sì, direi che è cresciuto in proporzione ai servizi che abbiamo messo a disposizione dei piacentini perché noi siamo riusciti a fare un lavoro insieme di corresponsabilità anche nella progettazione dei servizi, in particolare attraverso la Caritas, per cui man mano che questa città rispondeva ai bisogni crescenti dei cittadini, lo si faceva non solo con servizi di gestione diretta comunale ma in sinergia e in accordo con quelli forniti dalla diocese. Perché questo è il modo migliore, insomma, oggi da soli si sta solo se si è costretti e in particolare la crisi ti obbliga a metterti assieme e a dare risposte più complete in questo modo. Io credo che in questi anni siamo riusciti a crescere molto e da noi la crisi forse si è sentita un po' meno che da altre parti proprio grazie a questa collaborazione intensa tra l'amministrazione pubblica, la diocesi, il mondo del volontariato. Insomma abbiamo creato nel concreto quel principio di sussediarietà maturo che dovrebbero avere tutte le comunità dove tutti hanno non solo la possibilità di fare qualcosa ma anche di decidere insieme agli altri cosa fare, che è una cosa completamente diversa rispetto a un'impostazione di una volta in cui c'era qualcuno che decideva e altri che facevano decisioni di altri. Quindi mi sembra questo un modo maturo per lavorare che abbiamo costruito insieme all'inizio con Monsignor Monale e che poi abbiamo continuato in maniera positiva con Monsignor Vescovo. Insomma credo che io sono molto contento. È diventato ormai un momento tradizionale quello dell'incontro con il Vescovo. Quest'anno pare che faccia il richiamo un po' in base anche alla settimana sociale di Reggio Calabria alla responsabilità e all'unità. Penso innanzitutto che sia un momento questo importante e Sua Eccellenza ha fatto bene a proseguirlo rispetto agli anni precedenti. Questo richiamo alla libertà, alla responsabilità e all'impegno dei cattolici in politica credo che sia molto importante. Credo che sia importante soprattutto alla luce dei tempi che viviamo e delle sfide che ci attendono. Una capacità di ascolto che deriva, a mio modo di vedere, da una fede vissuta ma anche una grande concretezza nel sapere individuare quelle realtà e quelle esperienze positive presenti all'interno della nostra società a cui la politica deve dare non solo sostegno ma anche credito per poter uscire dalla crisi.